Si discute di un reintegro dei sanitari Novax, lei come agirà? Io devo dire innanzitutto che l'ho detto in tempi non sospetti, questa proposta è una mia proposta fatta ancora ormai mesi e mesi fa. Penso che davanti a 4.500 persone che sono a casa non riescono a lavorare, parlo di sanitari in generale, nei nostri ospedali, l'unica cosa da fare è quella di fare in modo, visto che non si è dato che mancano medici, mancano infermieri, fare in modo di farli tornare al posto di lavoro, dopodiché questo non significa disconoscere tutto quello che è stata la partita del Covid. Abbiamo avuto mesi difficili, mesi complicati, però oggi dobbiamo guardare avanti, quindi questi sanitari benvenga che tornino in ospedale. In ospedale così o con dei tamponi? Ma guardi, queste sono cose che deciderà l'autorità sanitaria, di certo non possono essere cose decise una tantum, direi che dobbiamo sempre comunque avere rispetto per i pazienti, noi abbiamo mediamente ricoverati degli 8.000 ai 9.000 pazienti al giorno, sono persone fragili che sono in ospedale perché non stanno bene, quindi anche un'infezione da Covid, che oggi è diventata quasi una banalissima influenza in molti casi, è un'infezione che se evitiamo di trasmettere ai nostri pazienti è meglio. Oggi il Ministro Calderoli ha rilasciato un'intervista sull'autonomia dettando delle linee nuove, ha parlato di una legge di attuazione e di una specie di work in progress per il Veneto. No, non ha parlato del Veneto, parla in generale, nel senso che il Ministro conferma il fatto, ma è scritto in Costituzione che ci sono 23 materie e ogni regione chiede quante vuole di queste 23. Dall'altro il fatto del work in progress non è una novità, condivido la posizione del Ministro, voglio ricordare che sono quello che ha proposto l'intesa, la preintesa, che prevedeva 5 materie. Del resto voglio anche ricordare che sono passati 5 governi, io non ho mai avuto il piacere di sedermi a un tavolo con davanti un Presidente del Consiglio che mi avesse detto quante materie vuoi. Quindi noi continuiamo a dire che vogliamo 23 materie, poi sulla gradualità penso che sia logico che ci deve essere gradualità, l'ho sempre detto, però il vero tema è quante materie. Hai detto che sentirà prima le regioni, quindi si attende una convocazione. Noi saremo dal Ministro la prossima settimana, c'è da dire che poi stiamo parlando di autonomia differenziata e quindi è un abito sartoriale, ogni regione chiederà le materie che vuole, noi appuntiamo le 23, dopo vedremo con che gradualità, con che condizioni, ma ci sono delle regioni, penso la Toscana chiede 2, c'è l'Emilia Romagna se non ricordo male chiede 12 o 14 e poi insomma ognuno avrà un abito sartoriale. Grazie. 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 Grazie.